La vittoria del Barletta contro il Manfredonia che vale il primato ai play-off e l'imminente consegna dello stadio Puttilli. Comincia nel migliore dei modi la settimana degli sportivi barlettani. Buone notizie sul Puttilli dopo circa dieci anni di attese giungono dall'assessore allo sport del comune di Barletta Ruggero Passero. Siamo molto vicini alla riapertura. Per l'inizio della prossima stagione apriremo le porte dello stadio. Stiamo seguendo in maniera quasi asfissiante l'evoluzione dei lavori, ha spiegato Passero, che sono ad un punto importante. Si stanno completando le pavimentazioni esterne nelle vie di accesso e nei percorsi di sosta. I tempi sono in linea con le previsioni e la stessa ditta che sta eseguendo l'opera ha tutto un interesse a consegnarla quanto prima perché è già impegnata nei lavori di un altro stadio. Sono in fase di ultimazione i lavori per la videosorveglianza continua Passero. Nel frattempo l'amministrazione comunale sta già pensando alla gestione dell'impianto in modo tale che una volta ultimato possa essere immediatamente fruibile. Tra collaudo da parte del CONI della struttura e manifestazione di interesse per la gestione, Passero auspica agosto quale termine massimo per consentire al Barletta Calcio di tornare a casa già a partire dalla prima giornata della stagione che verrà.